C'è il primo caso di contagio da Covid-19 nel territorio di Sansepolcro. A comunicarlo è il sindaco Mauro Cornioli con un messaggio sulla pagina Facebook del Comune della Valtiberina. Si tratta di una giovane donna, operatore sanitario, che lavora in ospedale ma non a Sansepolcro. Essendo una professionista del settore, la persona ha seguito tutti i protocolli del caso, osservando fin da subito un rigido isolamento anche in ambito familiare, con grande rispetto sia verso i familiari che verso la comunità intera. Il comportamento continuo a Cornioli di isolamento lo aveva già iniziato prima di contrarre il virus, perché usciva solo per andare al lavoro, vista anche la professione che svolge. È in buone condizioni di salute, questa notizia ci deve spingere a rafforzare ulteriormente i comportamenti e le regole igieniche previste dal decreto ministeriale. A Sansepolcro, peraltro, è già iniziata la sanificazione degli ambienti esterni. Una raccomandazione importante, continuate a restare in casa, non andate a passeggiare, non andate a correre in gruppo, non andate a passeggiare, questo è fondamentale. L'asintomatico positivo potrebbe essere in una persona molto vicina, dunque in questo momento massima, massima allerta. È stato comunicato la consegna dei farmaci a domicilio per i Ucra 65 anni, la consegna della spesa a domicilio per chi ne ha bisogno. Siamo in stretto contatto con tutto il Consiglio Comunale, con gli assessori, siamo uniti e insieme ce la potremo fare. Grazie.